musica shiguli guarda cosa ti ha portato il nonno una bella mela sul piatto di carta questa robetta qui è tutta plastic free come piace a te nonno ma il piattino di carta è peggio di quello di plastica ma lo sai quanti alberi nelle foreste della Lapponi vengono abbattuti per fare questi piattini? tanti immagino, eh sapevo io ma se cude fami cos'è che devo fare io per farne una giusta? mi spieghi cosa devo fare devi informarti e combattere con noi giovani combattere? con voi giovani? te la fai facile nani ma io ho già combattuto una guerra cioè? come cioè? io ho fatto il partigiano io ho una guerra nella vita è più che sufficiente ma se il papà mi aveva detto che quando c'era la guerra avevi solo sei anni adesso dirò la tutta sei anni e mezzo avevo eh e poi mi dovevi vedere ero lì in prima linea con le cerbottane con i bussolotti non ne passava uno di tedesco io pepem 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 stai attenta eh lascia la mano in vuda eh allora lì pepem pepem occhio lì guarda lì ciao chiuuu occhio sicurì stai attenta vai di via tedesco graffiù e anche questa volta il nonno ha vinto eh 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 a parte vabbè porto io il piatto mmm da anche prendere la mela magari eh no 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 Grazie a tutti.